Ebbene sì, probabilmente il fork di Terra Luna passerà e quindi avremo un nuovo Luna. L'abbiamo già visto succedere in passato in Ethereum, vi ricordo nel 2016 l'attacco alla DAO di Ethereum, l'hacking che ha svuotato i wallet e ha portato a realizzare un nuovo Ethereum, un fork dove è nato il nuovo Ethereum che oggi noi conosciamo e adesso con il merge di Ethereum e con Ethereum 2.0 si appresta a diventare ancora di più impressionante. E' impressionante come token e come moneta anche dal punto di vista del valore monetario e abbiamo anche Ethereum Classic, se oggi vedete Ethereum Classic è proprio perché è già successo in passato quello che stiamo vedendo oggi su Terra Luna e questo ci fa ben sperare soprattutto a chi è investito prima del 7 maggio. Vi ricordo che il 7 maggio c'è stato questo attacco, c'è stato il DPEG di UST e quindi Luna è crollata totalmente e oggi la ritroviamo a pochi centesimi di dollari di valore. Allora, facciamo un piccolo recap. In primis la cosa fondamentale è che in questo video vi faremo vedere come votare, quindi come partecipare al voto per poter decidere se ci sarà questo fork oppure no. Quindi con questo fork nascerà una nuova luna e la vecchia luna si chiamerà Luna Classic, ok? Il voto, quindi questo sondaggio, questa decisione, questo nuovo progetto è nato dal founder di Terra Luna, Dono, che è una cosa straordinaria se ci pensate perché il decentralizzato ti permette di non accentrare il potere in una sola persona, anche se lui è il founder come Dono, ma deve proporre una sua idea e poi se la community accetta va a buon fine. Questa è democrazia, questa è decentralizzazione pura. La cosa interessante qual è? Che come possiamo leggere qui all'interno di questa notizia, se andiamo qui in basso, se la notizia passa, cioè se questa proposta passa, il 27 maggio avverrà il lancio dell'uovo Luna, ok? Quindi il 27 maggio ci sarà il lancio del nuovo Luna e mancano pochi giorni per poter votare, tra poco vi diremo come votare. Prima di andare avanti però vi chiediamo una cosa. In primis cosa pensate voi? Quindi vi chiediamo di lasciare un commento e dirci cosa pensate di questo fork, se siete d'accordo oppure no, ok? E quale magari per voi è la soluzione in questo momento per poter far ritornare, perlomeno avvicinarsi ai passi del passato a Luna. Quindi se avete un'altra soluzione fatecela sapere nei commenti. La seconda cosa che vi chiediamo è quella di lasciare un bel like al video e di iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi tanti altri contenuti come questo. Supportare il canale è fondamentale se volete più video di questo genere. Detto questo vi ricordo che la distribuzione di questo airdrop, perché che cosa avverrà in questa maniera? Avverrà un airdrop dove verranno regalati dei token, quindi questi token verranno regalati a chi aveva Luna e USD prima del 7 maggio e chi ce l'aveva dopo. Giustamente e naturalmente chi ce l'aveva prima riceverà un'allocazione più grossa, quindi riceverà più token. Come potete vedere il 35% infatti di questi Luna andranno a chi aveva prima Luna dell'attacco, il 30% alla community pool tra cui anche agli sviluppatori, il 10% a chi aveva USD prima dell'attacco e poi la restante parte 10 e 15 a chi aveva USD e Luna, a chi ha USD e Luna dopo il 7 maggio, ok? Quindi diciamo che ci sarà una divisione corretta e giusta che avverrà ufficialmente il 27 maggio. Ne sapremo di più, seguite il canale perché vi daremo molte notizie in merito. Andiamo avanti e vediamo quelli che sono i dettagli della proposta. In questo momento abbiamo il 78,15% dei sì, il 2,53% degli astenuti, 1,67% dei no e 17,64% di no con vedo. Quindi in questo momento, mancano 5 giorni alla fine, si propende per avere questo fork, ok? Quindi se finisse così ci sarà il fork, in quanto c'è la soglia di passaggio, quindi è stato raggiunto il quorum, vuol dire che il numero minimo di persone che doveva votare questo sondaggio l'ha votato, ok? Si è superata anche di gran lunga e naturalmente se passessi avverrà, ok? Questa è pura democrazia, è decentralizzazione. Se andiamo qui in basso possiamo vedere che ci sono sì, 48 sì per quanto riguarda i validatori, 3 astenuti e 5 no con vedo, tra cui uno come stake system che è il 4,94%. Se andiamo a vedere qui invece abbiamo Terra One che molti di voi conoscono, che ha un 2% di potere di voto che ha votato. E poi ci sono ancora coloro che non hanno votato come Onion Money, Smart Stake e così via. Vediamo cosa voteranno loro. In ogni caso anche la persona che ha dei Luna all'interno o dei UST all'interno di Terra Station può votare. Come dobbiamo fare? La prima cosa fondamentale, se volete leggere questa notizia o volete accedere a Terra Money, state attenti dove cliccate soprattutto per quanto riguarda il wallet. Il link web ufficiale è station.terra.money, ok? Ora, se non volete sbagliare lasciate un commento e vi mandiamo il link. Una volta che siete all'interno di Station Terra Money dovete creare un wallet. Lo potete fare anche da smartphone oppure attraverso l'estensione del browser. Quindi una volta che avete creato il classico wallet con la seed phrase, salvatevi le frasi eccetera eccetera, dovete all'interno di questo wallet inviare o dei UST o dei Luna, ok? Fatto questo ve li ritrovate nel portafoglio e quindi per esempio li potete comprare su Binance e poi mandare su Terra Station. Cosa importantissima, in basso in descrizione troverete i link ai vari exchange che alcuni li abbiamo già recensiti sul canale. Comunque troverete i link con i bonus di benvenuto, quindi se non siete iscritti andate in basso in descrizione e trovate i vari link. Vi consigliamo di prendervi i bonus di benvenuto visto che sono criptovalute gratis. Andiamo qui poi all'interno di Terra Station, clicchiamo su Governance e come potete vedere chiunque può lanciare una nuova proposta. A noi però non interessa lanciare una nuova proposta, andare in questa sezione qui, in questa voce. Terra Builders Alliance, clicchiamo qui e praticamente come potete vedere in questo momento ci sono stati 185 milioni di voti, cioè il 50%. Ok? Incredibile. Ora, se noi andiamo qui, quello che noi possiamo vedere naturalmente è come la situazione eccetera eccetera, che ora è il 78 e per adesso propende per il sì, poi se cambia qualcosa ve lo faremo sapere nei prossimi video. Per questo vi consigliamo di iscrivervi al canale, ma detto questo se volete votare dovete andare qui in alto e cliccare su questo pulsantino. Ora, noi non voteremo adesso perché abbiamo già votato, quindi noi abbiamo già, e vi dico anche che cosa abbiamo votato. Sì, per noi è giusto così, perché è l'unico modo che vediamo in questo momento, è l'unico modo plausibile che vediamo in questo momento per portare Luna comunque ad aumentare di valore e cercare di riprendersi. Non abbiamo altre soluzioni, qualcuno ha parlato di barn, di bruciare i token, ma barn vuol dire che dovrebbero bruciare i token che avete voi nel vostro portafoglio, quindi non si può fare, ok? Mentre la cosa che vediamo più plausibile è appunto questo fork. Ora abbiamo un sì, abbiamo la possibilità di votare con l'astenuto, con il no o no con Beto. Se volete votare sì, cliccate su sì, scegliete se volete pagare con Luna, con USD, quindi votare non costa nulla, un centesimo o con 7. Noi abbiamo votato con USD. Dovete cliccare su invia e poi se per esempio avete fatto il collegamento dallo smartphone dovete accettare da smartphone. Se no vi si aprirà la schermatina, vedete io clicco qui, vi si aprirà la schermatina dove dovete andare ad approvare questa transazione. Ora non so se ce lo fa fare proprio perché non abbiamo in questo momento lo smartphone a disposizione, ma in ogni caso si aprirà la schermatina o da PC o da smartphone. Dovete cliccare su conferma, quindi su firma la transazione e va a buon fine. Ora io riaggiorno perché ripeto non ci interessa votare in questo momento, più che altro perché abbiamo già votato tra le altre cose. Quindi per noi va bene così, abbiamo espresso il nostro voto e noi siamo tra i sì. Comunque come potete vedere i voti aumentano sempre di più, siamo già arrivati al 50,87% di persone che hanno votato. Ed è questo l'unica cosa che dovete fare. Se fate parte comunque dell'ecosistema di Terra, avete dei Terra o dei UST, secondo noi ha senso poter votare e proprio per così potete andare a dire alla vostra. Che anche se siete un piccolo numerino rispetto a questi 185 milioni, però tanti numerini poi vanno a propendere verso quello che è la maggioranza. E la maggioranza in questo caso dice sì. Però fateci sapere voi nei commenti cosa ne pensate e come voterete e noi naturalmente ci vediamo in un prossimo video. Ciao e a presto.